Dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, i reperti della collezione dedicata a Napoli Antica saranno per la prima volta esposti al pubblico nel cuore stesso del centro storico della città. Verrà inaugurata oggi e resterà fino al 15 settembre del 2019 nell'Aps Museum, presso la Basilica della Pietrasanta a Napoli, la mostra Sacra Neapolis, culti, miti e leggende. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra il MAN e l'Associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus per consolidare il già forte legame tra l'archeologico, da sempre punto di riferimento nel tessuto urbano e simbolo dell'identità cittadina, e la città stessa e il suo territorio, per raccontare la storia di Neapolis greco-romana, dei miti, dei culti, delle manifestazioni del sacro e della religiosità antica. L'Associazione Pietrasanta Polo Culturale, ha dichiarato il presidente Raffaele Iovine, vuole rilanciare il proprio impegno per la città grazie al modello di collaborazione pubblico-privato. Da una grande fabbrica ecclesie alla grande fabbrica della cultura, un luogo dove si produce cultura, oggi presentiamo due progetti straordinari. Uno con il Museo Archeologico Nazionale, esponendo per la prima volta reperti inediti conservati nei depositi del museo, e l'altro per la valorizzazione e la conoscenza del sottosuolo della città con l'Osservatorio Vesuviano. Un grande progetto che convolge privato, pubblico, nella convinzione che l'impresa culturale debba essere sempre un'impresa sostenibile. La Pietrasanta si conferma così ancora una volta a Polo Culturale, ospitando sempre a partire dal 22 dicembre fino al 30 marzo del 2019, anche Napoli, Storia, Arte e Vulcani, la mostra in collaborazione con l'Osservatorio Vesuviano sulla storia del territorio napoletano. Ascoltiamo il vulcanologo Mauro De Vito e il direttore del MAN, Paolo Giulierini. L'Osservatorio è da sempre legato a questo territorio, fin dalla sua fondazione, e questo lo si vede nelle ricchissime collezioni dell'Osservatorio, ma anche dai nostri studi recenti. Io mi occupo di vulcani, di stratigrafia, e in questo posto praticamente si può riconoscere, leggere il libro scritto da questi due vulcani. Il Museo di Napoli è uno straordinario osservatoio di cultura, e ancora tantissimo da dare alla città, soprattutto in merito a quei reperti che provengono dal centro storico.